Eccoci qua amici gobbacci, questo video non per parlare di calcio ma per parlare del video che sta circolando sul web di Pavel Nedved mentre toccano le zine in una festa privata. Come al solito iscrivetevi al mio canale e lasciate un mi piace se i contenuti saranno stati di vostro gradimento. Allora parliamo subito di questa situazione di Nedved. Allora qua ci sono un po' di punti di vista, speculazione mediatica sicuramente, perché quando si vuole attaccare una persona lo si vede anche in sede di elezioni politiche, cosa si fa, si mandano in giro dei video particolari, si va a toccare la sfera privata, qualcosa che nel mondo attuale fa veramente schifo, colpire nella sfera privata una persona al di là delle sue capacità professionali è veramente un atto infimo ed è qualcosa di ignobile per la quale io non ho parole. Ma purtroppo il giornalismo italiano è fatto di questi soggetti, lo vediamo ogni giorno in televisione, si attacca sul sesso, sui gusti sessuali, su come si porta i capelli, se uno è cicciottello o è troppo magro, ogni situazione è buona per attaccare le persone dal punto di vista umano, mentre mai si valuta quello che professionalmente e le sue capacità portano a meno a fare all'interno del contesto in cui una persona si trova. Quindi anche questo video che viene trasmesso di Pavel Nedved in rete, video oltretutto di tre anni fa, ripeto, mentre goliardicamente con gli amici stanno facendo un balletto e tocca le zinne di una ragazza e da un certo punto di vista molti direbbero anche beato lui, è un video chiaramente che non fa onora a chi lo ha pubblicato, dall'altro canto fa suonare la campanellina d'allarme a chi come Nedved ricopre ruoli particolarmente elevati in una società che ha una rindondanza a livello internazionale di stare molto più attenti nella vita privata, su quello che si fa, con chi lo si fa e se si possono evitare l'uso dei telefonini in certe situazioni è anche una cosa intelligente. Sono d'accordo sul comunicato Juve con il quale non prende nessun tipo di provvedimento nei confronti di Nedved, anche perché che provvedimento vuoi fare? Un provvedimento sulla sfera e la vita privata? Chissà quanti scheletri nell'armadio ognuno di loro ha, no? Quindi ognuno di noi ha, perché è la vita di ogni giorno. Quindi concordo, così come concordo, al monito di stare attento visto il ruolo che esso ricopre. Quindi mi trovo in linea con la società, nel comunicato breve, ma ovviamente va a toccare i punti decisivi, quindi attacca chiaramente chi utilizza la vita privata altrui per farsi notorietà, per avere notorietà o per sputtanare altre persone, vile, schifoso, senza parole, ma ad altro canto ricorda Nedved la posizione che gli ricopre. Niente, a questo punto nelle curve sentiremo Pavel tocca le zine, tocca le zine e forza Pavel tocca le zine. Buttiamola a sorridere perché chiaramente altro non si può fare. Nel calcio dovrebbe lasciare spazio il campo, i gesti tecnici, la tattica, la tecnica, eccetera, eccetera. Purtroppo nel 2022 i social nel bene o nel male hanno cambiato la nostra società, soprattutto chiaramente l'ha cambiata nel male e quindi l'uso deve essere fatto con raziocinio di chiunque vive in un mondo social, sia adesso che rappresenta una piccola parte che una grande parte. L'etica, ormai non ne abbiamo più, abbiamo passato anni di questi due anni dove l'etica lasciamo perdere, visto anche i dati che stanno emergendo ultimamente. Parlo, meglio che non ne parlo, ma lasciamo perdere. Diciamo che l'etica e la professionalità in questi due anni si è venduta a questi, a tanti di questi e quindi non si guarda più in faccia a niente. I soldi comandano a tutti i livelli, trasmissioni televisive, social, professionisti, micaprofessionisti, tutti hanno un vile prezzo. Con questo è tutto, fino alla fine, Forza Juventus!